Sono stati svelati i nomi che saranno presenti nella prossima puntata di Amici Celebrities, il talent condotto da Maria De Filippi, Scopri li Amici Celebrities, il talent show ai Maria De Filippi, ha svelato tramite i canali social i super ospiti che saranno presenti sabato sera nel programma. I nomi degli ospiti a duettare con i concorrenti arriveranno Stash con It e Colors e Benji e Fede. Questi ultimi arrivano nel programma dopo la straordinaria estate appena trascorsa, in cui hanno fatto ballare e cantare tutti con la loro dove e quando. Questa sarà l'ultima puntata di Amici Celebrities che andrà in onda di sabato in quanto, dalla prossima settimana, si sposterà al mercoledì evitando così di scontrarsi con la partita della nazionale di calcio con la Grecia, prevista su Rai 1 per il 12 ottobre. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.